La cronaca italiana, l'hanno chiamata Angeli e Demoni, è la ghiacciante inchiesta della Procura di Reggio Emilia su un presunto giro di affidi illegali, lavaggio del cervello e falsi documenti per togliere alcuni bambini e le loro famiglie. 18 gli indagati, 6 agli arresti, tra loro un sindaco, Luca Ponzi e l'inviata Isabella Romano. La chiamavano la macchinetta dei ricordi, elettrodi attaccati alle caviglie dei bambini per stimolarli a dire quello che gli assistenti sociali volevano sentire. È uno dei metodi utilizzati da Claudio Foti e Nadia Bolognini, gli psicoterapeuti di Torino, arrestati dai carabinieri insieme ad Andrea Carletti, sindaco del PD di Bibiano in provincia di Reggio Emilia e ai responsabili dei servizi sociali. 18 in tutto le ordinanze cautelari per quello che viene definito il sistema Bibiano, in cui, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Reggio Emilia, bambini e famiglie erano solo un pretesto per fare soldi. L'obiettivo era quello di creare una struttura per accogliere i minori vittime d'abusi da tutta Italia, con una retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale di 250 euro al giorno. Per farlo ogni artificio era valido, anche aggiungere dettagli sessuali ai disegni dei bambini per convincere i periti del Tribunale dei minori che avessero subito violenza. E poi tenerli lontani da papà e mamma naturali. C'è una stanza, nella sede dei servizi sociali, in cui finivano le lettere e i regali spediti per Natale. Per far credere ai piccoli, scrive il giudice, che il primo vero Natale era quello passato nelle famiglie affidatarie. Stia attenta, non faccia lo spiritoso, perché i due piccoli li ho portati via e le porto via anche il grande. I piccoli li mando in un istituto e il grande lei non lo vede più. Provi a immaginare lei, cosa si sente dire un padre, dopo aver fatto tutte le cose fatte bene per i propri figli, senti a sentire un lavoro del genere. A questo padre i servizi sociali della Valdenza hanno sottratto i due figli più piccoli, 6 e 8 anni, dopo la separazione dalla compagna, una segnalazione, poi la sospensione della capacità genitoriale. In queste relazioni gli assistenti sociali che cosa raccontavano? Raccontavano delle falsità, ossia attribuivano a me comportamenti o frasi o ingiurie rivolte a me che erano rivolte ad altri e non a me. Da un anno vede i suoi figli solo in strutture protette. La sua battaglia ora va avanti nelle aule dei tribunali. È un sistema marcio, non solo va rivisto, va zerato. Finché girano soldi sulla speculazione dei bambini non si va da nessuna parte. Lei ora cosa si aspetta? Mi aspetto giustizia, verità, ma soprattutto arrivare a casa i miei figli il più presto possibile.